Quale è lo sport migliore per allungare la vita? Il tennis e i tenisti vivrebbero più a lungo di chi pratica altri sport, sia di squadra sia individuali. Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno analizzato con degli appositi questionari le condizioni di salute di 8600 persone, tutte residenti a Copenhagen, nell'arco di 25 anni. Risultato? Chi impugna la racchetta vive in media 9,7 anni di più rispetto a chi fa una vita sedentaria, superando anche tutti gli altri sportivi. Al secondo posto troviamo infatti il badminton, 6,2 anni, mentre la medaglia di bronzo spetta al calcio, 4,7 anni. Fanalino di coda è la palestra, che aumenta la vita di 1,5 anni. Non è un caso, gli studiosi hanno rilevato come gli sport di gruppo, compresi quelli praticati in coppia, siano più salutari, in quanto l'interazione sociale contribuirebbe a diminuire lo stress donando maggiori benefici.